bene ragazzi ciao amici di Fisherlandia siamo i compagni dell'amico Damiano perché vi vogliamo invitare alla seconda edizione seconda edizione seconda edizione di gara di spinning 24 ore l'anno scorso abbiamo fatto la IMA Cup 24 ore che ha avuto un ottimo successo devo dire quest'anno vi riproponiamo la stessa cosa Damiano dici qualcosa si 24 ore trofeo Blue Springs e niente come dare gola a Blue Springs abbiamo deciso di fare questa gara impostando come al solito prima e secondo terzo premio ricchi premi e avremo anche una lotteria finale bello che deve essere giusto perché è giusto che chi non si classifica a di là della capacità sono gare goliardi che sono gare sono raduni pescati dai diciamo così esattamente più o meno come è stato l'edging le tre gare di edging che abbiamo fatto in Liguria niente costo di iscrizione 25 euro potete iscrivervi sia qui da Fisherlandia oppure sul sito Blue Springs abbiamo anche i numeri di telefono della locandina che mettiamo in coda anche qua nel potete anche contattarmi ci sono tutti i numeri di cellulare sulle 3 del mattino contattacelo sicuramente che lui è piacere gode proprio di queste cose inizio gara ore 12 del sabato termine gara ore 12 della domenica premiazione da luna le iscrizioni sono aperte al sabato fino alle ore 19 praticamente fino a chiusura negozio per chi lavorando magari arriva a ritaglio una piccola parentesi sul discorso 24 ore ricordatevi non vi spaventate perché non è che uno deve pescare tutte le 24 ore diciamo che noi diamo la possibilità di iniziare sabato a mezzogiorno di concludere domenica a mezzogiorno però come facciamo come molti fanno pescano due o tre ore alla sera e due o tre ore al mattino sperando magari nella cattura assolutamente sono arrivati qua sdraiati sulle barelle sono entrate orizzontali e però è stato bello molto divertente diciamo che uno alla possibilità quindi il sabato se voi doveste avere degli impegni vi liberate solo alla sera fino alle 19 le iscrizioni qua sono aperte 25 euro come diceva l'amico damiano abbiamo in omaggio subito con l'iscrizione un premio che come molti di voi chi ha partecipato l'anno scorso saprà benissimo che praticamente il valore della dell'iscrizione stessa quindi il gadget è quello e poi quest'anno ci sarà appunto i premi e la lotteria vi ricordo due cose velocemente il campo gara è tutta la liguria quindi andate dove volete come si dice ci sarà un territorio ligure esatto ci sarà una regolamentazione che diremo poco prima della gara un'ora prima della gara un'ora prima della gara in modo che tutto sia sempre fatto nella limpidità nella cosa nell'onestà della cosa in modo che per tutti vada bene e per quanto riguarda invece il discorso delle catture vi ricordo solo che avete a disposizione cinque pesci quindi portate potete portare alla pesa cinque pesci vi diremo anche lì come funziona o cosa che deve essere obbligatoria o da soli o in gruppo un collegamento whatsapp esattamente perché questo come l'anno scorso verrà istituito il classico gruppo whatsapp perché comunque i giudici di gara non possono girare per tutta la liguria è lui che gira e poi noi siamo a dormire lui gira ci sarà qualcuno molto bello oltretutto perché l'anno scorso avevamo il telefonino noi e di notte arrivava la cattura di quello di quell'altro noi scriviamo molto bello molto bello molto bello quindi la concorrenti si possono esatto ci vedono si vedono è una veramente una cosa carina e bella e vi invitiamo a farlo quindi ragazzi vi invitiamo di nuovo 12 13 maggio quindi entro sabato a mezzogiorno inizia la gara entro sabato alle 19 chiusura delle iscrizioni mi raccomando partecipate ricordatevi che non è una cosa assolutamente complicata anche per chi di voi inizia possiamo comunque chi ci sarà a pescare vi darà sicuramente una mano vi darà l'indirizzo giusto il consiglio giusto anche se non siete di genova venite siete ben accettati un'altra cosa dalle 9 sarò qua presente a negozio per mostrarvi qualche novità tra cui ggrac che è il nuovo marchio che stiamo esponendo ci sono dei siliconici abbastanza interessanti soprattutto per l'aspetto certo 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 c'è la spigola possiamo utilizzare i pesci vanno bene tutti tranne cioè basta che siano pescati a spinning diciamo no esattamente si possono usare gomme artificiali di dove tutto bombe a mano tricc e tracche eccetera la tecnica quella poi uno pesca come vuole l'importante è che ci divertiamo che ci passiamo una bella giornata certo certo i fucili le bombe a mano le facciamo un'altra gara bene ragazzi non mi resta altro che invitarvi a continuare a seguire le nostre pagine facebook salutiamo l'amico damiano e lo ringraziamo come sempre ci vediamo alla prossima e come sempre come dico io che la pesca sia con voi sempre